eccoci buonasera a tutti buonasera atteggiare una pubblicità allora signore buonasera non so neanche puntata sia ci penseremo ok continuo aspetta così no non mi piace ok continuiamo questa sfida in isola dell'eternità non so neanche cosa abbiamo fatto fino adesso sinceramente allora no cos'è sta roba no viaggio dove qua siamo arrivati però ne avevo ancora ciao tizio e vabbè tizio qua stai me ne sbatto il bellino di qua non è qua che uno deve passare su tutti gli altri non ti preoccupare allora vai stanze eterni ma il nome già non è che non è che il nome mi stimoli il cammino e concludo quindi ho finito no non sarà mica l'ultimo livello spero oh oh il cammino già inizia a dire oh mi sa che qua cp ma cosa non esageriamo adesso però non può essere no non può essere suo padre ma se qua il nemico però mi servono ok vai ok vai ok quindi i guantoni boh perché tifano questi qua non è ok 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 il padre con primi la città tutto bene ok è già non mi sa che non devo andare di là sembra che odio si ma veramente quel livello di crash e dove c'è tiger venia di oh 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 wow Wow, da questa sera ma qua. Questo sembra veramente più facile Però sicuramente E vabbè ci piace il gioco pesante Questo è un bel guaio Lo sapevo che era tipo Ok si vabbè Cominciamo a esagerare qua però Qua cominciamo proprio a esagerare Non stiamo esagerando un pochettino qua No Ah ma spetta Oh capito 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 e cazzo si fa sto lì vale è per forza questo ma come cazzo allora si fa però questa roba la soluzione è più facile di quello che sta bene la soluzione è più facile no, l'avevo già fatto no, è proprio qua amica, non va amica come si fa a fare sta merda amico? eh sì, infatti, sembra giusto sì, invece ho anche una vita, come cazzo se mi danno un'altra botta, sto morto e devo rifarla a casa sembra anche a me che lì è giusto niente, l'acqua, so che ci va il ghiaccio, ma allora come si fa? domanda come si può fare? eh dai, non mi dire che devo fare devo andare a vedere come si fa? come si fa? ci va a vedere cioè buh, quel cazzo non è possibile non è molto chiaro non si capisce molto le altre lo fate tutte come si fa? solo che se mi arriva un'altra botta su un bello che è andato io non voglio rifarmi il posto a capo come se mi è vuoi che è blu? eh, purtroppo non so neanche io come allora vediamo un po un attimo guardando e boffina l'incredibile finale ok cazzo dopo mi ci vorrà veramente un gioco di quelli quindi ok cioè di quelli tranquilli per fortuna ne ho selezionato uno per fortuna diventa uscire ok vediamo un po ma vaffanculo ma vaffanculo veramente ma vaffanculo non era questo no e lo sapevo lo sapevo devo rifare da capo minchia che barba o che falle odio queste cose mi metteva dei giochi farà veramente un gioco tranquillo dopo veramente dopo questo dov'è il boffinare signori ma neanche vai pirlo vai sembra tranquillo no no ma non lo è per un cazzo proprio per un cazzo che vai bestemmiare sto gioco ovviamente non subire troppi danni ma è importantissimo non subire tutto adesso nooo ho sbagliato mira è possibile ooo lo dobbiamo fare via quando torna ole fanculo ma è importantissimo ma è importantissimo infatti importantissimo mamma ora più o meno ho capito bene via oh bene ma ho preso tutto il fan del bastardo perché non riesco a saltare no bene perché non salta mica ma perché non deve saltare ma perché mi devo bestemmiare sui giochi ma perché non riesco a capire sta cosa che devo cristalli sui giochi evidentemente piace a qualcuno a me no oh mio dio devo prendere la testa tutto bastardo via ho capito perché ma però non riesco a saltare è incredibile non riesce a saltare perché non riesce ah ma scusa no non riesco a saltare qua del V per un po ma questo riesce a saltare ma perché è un altare ma perché mai poi dopo questo finito perché ha finito il gioco non può far rendere così da questa troia perché non deve rompermi coglioni e vaffanculo ma salta santo dio ma perché non devi saltare quanto si o no no ma perché ha volato bastardo ma perché mica che gioco di merda la puttana vai sotto po di addosso no perché oddio devo rifare tutto vabbè finché devo rifare questi non è un gran problema basta finchio porca troia ok ho vinto basta ho finito il tuo gioco finchio ah abbiamo finito il gioco poi lì parlo ma è grosso non Eh, in effetti, la vittima è tua. Che hit, oh! Ah, se noi dopo facciamo... Ma non lo so, vediamo se noi dopo facciamo tanta roba. Oh, gli fanno insegnare roba a sto qua? Sì, hai detto in tutti, figlio. Ora, ogni villano si può pensare togli prima prima di considerare a prendere il mondo. Sì, possiamo sperare, almeno per un momento, che non ci ci sia più di più? Sì, è una buona idea. Ma probabilmente si può sperare. c'è il post gioco tutti bene ma è quello che è capitato no sinceramente no tanto scambia non credo cantare mai tanto dopo un altro giochino tipo virtù di tipo ho comprato la steam dove vengono specie di grafico nobile tipo vieni vieni au vieni au si sta a venire ottimo lavoro è successo tanto ovviamente chiudo star live poi ne ha pure un'altra ovviamente non è che allora che dire di questo gioco comunque un plat forma abbastanza divertente se non che alcuni punti sono un po da bestemmiarci ma tutto sommato per averlo preso gratis da epic ci può stare ignoro i seguiti l'ignoro non credo che giocherò mai e io direi che possiamo chiudere questa live qui il tempo di aprire l'altro gioco che dovrebbe essere più sereno quindi più tranquillo e ritorno qui tempo di fare cinque minuti circa dai grazie ancora vediamo un po di no però io vorrei un attimo vedere se c'è qualche poste 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 posto quanto pare essere continua ok non c'è un poste ma proprio l'indizione così 10 tipo come i crush non accerta ma inutile andare avanti ormai ha fatto tutto pazzo quando tornerai ma già tornata ha proprio si riazzera tutto comunque esco dal gioco ragazzi tempo di chiudere gioco aprire l'altro e ritorniamo qua per l'altro gioco lo chiudo per un discorso anche di il al che poi vanno a ricaricare a tra pochissimo grazie a tutti